E' entusiasta del fatto che nel Salento c'è gente brava, gioia di vivere e si mangia bene. Siamo partiti dall'olio buono, dalla cipolla e dal pomodoro. C'è nel senso che pomodoro e cipolla schiattariciati, qui schiattariciati significa che deve schiattare nell'olio. Quando si butta il pomodoro nell'olio deve cantare, ti sporchi la cucina però ti lecchi le dita. Siamo partiti dall'olio buono. Siamo partiti dall'olio buono.